Cosmo Bike Show Verona, la vera novità di Scapin è la nuova GECO. Alberto Pizzo, che è responsabile di Scapin, ce la vuoi un po' illustrare questa novità, vera novità di Scapin? Sì, è una bici che mancava nella gamma Scapin, una biammortizzata da 29, è il nostro primo prodotto di questo tipo ed è nata con una partnership con Olimpia, infatti abbiamo sfruttato lo stesso carro posteriore ma per sviluppare un triangolo anteriore completamente diverso sia nelle forme che nelle geometrie che sono state pensate per un prodotto leggermente diverso. Alberto, vogliamo andare nei particolari di questa GECO? Certo, allora per quanto riguarda le geometrie, GECO ha uno sterzo da 70 gradi per poter avere una guida abbastanza agevole soprattutto nelle discese sia tecniche che lunghe e un carro posteriore da 435 mm, una cosa molto importante perché la bici è molto reattiva e appunto riesce a dare il massimo sia negli percorsi tecnici ma anche negli percorsi quelli un po' più rilassati diciamo. È stato scelto di tenere un orizzontale abbastanza compatto e di lavorare con degli attacchi manubrio che sulla taglia M sono intorno agli 80 mm per avere un passo molto stretto e quindi avere una bici molto versatile e compatta. Il tubo sella è stato portato a 74 gradi in una linea ideale di 74 cm di altezza sella, questo appunto per riuscire ad avere una posizione in bici molto agevole soprattutto anche nei tratti in salita. Infatti è in questi tratti dove la bici tende ad alzarsi spesso nell'anteriore e con questa tipologia di tubo sella si riesce a mantenere la posizione molto più compatta sulla bicicletta. Il telaio è completamente integrato per quanto riguarda i suoi cablaggi appunto, quindi il blocco dell'amordizzatore posteriore si ha al manubrio ed è una bici pensata appunto per chi vuole divertirsi. Per l'agonista e per chi vuole avere una bici che sia un buon compromesso tra una front e una full. È molto reattiva nel posteriore sia per il carro completo sia per il sistema di sospensione che appunto consente di avere il minimo scostamento nella prima parte di viaggio dell'amortizzatore e mentre avere un'amortizzazione migliore nella parte dove serve insomma quando inizia ad avere degli impatti più forti con il terreno. Le full stanno prendendo sempre più piede anche nelle competizioni di cross country. Sì, indubbiamente il mondo della mountain bike è cambiato ed è cambiato nei percorsi e anche nei tempi di gara e quindi gli atleti necessitano sempre di più di avere una bici molto performante che sappia copiare al meglio il terreno e non dispergere energia né fisica da un punto di vista di risparmio proprio energetico durante la competizione sia di potenza al suolo e che gli consente di esprimersi al meglio in qualsiasi condizione. Quindi è da qui nasce appunto questa GECO. Un ottimo compromesso tra chi vuole avere una bici leggera, reattiva ma che resti attaccata al terreno e non si scolli mai. Alberto, alle nostre spalle abbiamo l'Oraclo, una bici che ha dato grandi soddisfazioni a Scapin in catalogo anche quest'anno con qualche novità. Ma certo, diciamo che l'Oraclo è stata una bici che ha dato molte soddisfazioni perché i biker sono entusiasti della sua resa ed è piaciuta molto. In realtà è stato rivisto semplicemente il colore, aggiornato nei minimi dettagli diciamo quindi in buona sostanza nessuna grossa variazione rispetto al modello presentato l'anno scorso. appunto perché noi crediamo in questo che se il prodotto è azzeccato non debba essere cambiato, stravolto troppo spesso anche per la soddisfazione di chi ha appena acquistato la bici nuova. Per quanto riguarda invece il resto della gamma, appunto anche su Kyoto non ci sono grossi cambiamenti e per quanto riguarda le bici da corsa ci sono delle colorazioni molto innovative che abbiamo proposto quest'anno e che potete vedere qui in fiera e nei cataloghi. Abbiamo la nostra Calibra, anche Calibra l'anno scorso è stata molto apprezzata non solo qui in fiera ma anche appunto dal pubblico, infatti è una bici che è molto compatta, è una bici per freno a disco, è una bici che assieme alla tecnologia dei perni passanti riesce a dare veramente una sensazione di guida molto più sicura e molto più nuova rispetto alle bici più tradizionali. È una bici con una serie di dettagli tecnici di pregio come la chiusura a sella integrata completamente a scomparsa, la forcella che è stata rovesciata per avere la massima resa anche per il freno a disco. È una bici che appunto non ci siamo sentiti di andare a modificare appositamente per le prestazioni già ottime che siamo riusciti a ottenere. Sicuramente stiamo lavorando a pancia a terra come si sol dire per il futuro per portare delle ulteriori innovazioni sui nostri prodotti.